Trentino, Val di Sole, Caldes, frazione Cassana In una casa antica, a metà anni 90 è stato ristrutturato un appartamento che dispone di due stanze, bagno finestrato e ampia cucina soggiorno con caminetto ad angolo. L'appartamento viene proposto completo di arredo e da richiesta non compresi nel prezzo esposto sono disponibili un posto auto esterno privato ed una legnaia barra deposito. L'unità è posta in vendita da privato per cui è possibile sostenere l'esborso fiscale sul solo valore catastale. Al prezzo esposto sono da aggiungere le tasse, calcolate come di anzi precisato, il costo dell'atto notarile e la commissione d'uso all'agenzia, mentre si potranno stornare gli eventuali importi ottenuti a titolo di sconto in sede di trattativa.